Giusto, dottor Perlini, lei che dice? È riadattato. Però, visto che siamo in fase conclusiva, direi, per chi lo sa, cantare la sinistra. Ma perché non mi sento? Sì, anche te, Roberto, puoi cantare. Voglio ringraziare anche l'ultima volta, di nome Roberto. Questo si fa, lo sentite. Se vuoi fare la sfida, non so cos'è. Questo è il mio testo, io ho conosciuto il diverso, e il mio testo è diverso. Gente che cerca nel ricerto te, gente che canta nei tornelli, e due che aspetto la sua prossima mossa, e un angolo e un fisso la coscia, qualcuno accende un po' di musica. In quest'estate che si popolà, di campo tu muovo un vestito animale, in dato balla tu sai come far male. E a Dio non sento più le idee, e il peso gravitazionale, poi ti avvicini e mi dici che... Ho conosciuto Paolo, ho conosciuto Paolo, mi ha presentato, mi ha portato, e mi ha portato tra gli angeli. L'anturidezza è uscita qualche ora fa, tra discorsi pilotoffici sul forno e star, racconti di scuola, le risate di gloria, bevo un altro sorso, colto il sguardo che mi rospora, prendi le scarpe e le calze, togliamo via lungo la spiaggia, la notte per ballare con le mani in cornia, chitarra, vino, la poligolosia. E Dio non senti più le idee, e il peso gravitazionale, poi mi avvicino e ti dico che... Ho conosciuto Paolo, ho conosciuto Paolo, mi ha presentato, non sto a niente, mi ha portato in mai, ho conosciuto Paolo, ho conosciuto Paolo, mi ha presentato, mi ha portato tra gli angeli. mi ha portato tra gli angeli. mi ha presentato, mi ha presentato Tony, che se mi ha presentato in mai, agradece, ho conosciuto Paolo, ho conosciuto Paolo, ho conosciuto Paolo, mi ha presentato, mi ha presentato tra gli angeli. Ho conosciuto Paolo, ho conosciuto Paolo, mi ha presentato Tony, mi ha portato tra gli angeli. Non c'è già un bologno, un bologno che ho avuto Non c'è un bologno, non c'è il bologno Non c'è un bologno che ha provato il bologno grazie